Amici e amiche di BPM Power, oggi vi parlo di questa scheda madre, ovvero la ASRock X570 Phantom Gaming 4. Questa particolare motherboard supporta i processori desktop socket MDM4 Ryzen di serie 2000, 3000, 4000G e persino 5000 con aggiornamento del BIOS. Esteticamente molto semplice, è costruita da un PCB a tema nero e grigio, nella parte inferiore della scheda sono presenti due slot PCI Express 4.0x16, ci sono anche due slot PCI Express 4.0x1 nonché due slot M2 con lo slot superiore che supporta lo standard PCI Express 4.0x4 e lo slot M2 inferiore che consente sia la connessione SSD PCI Express 4.0 che quella SATA. Sono inoltre presenti ben 8 porte SATA che supportano l'array RAID 0, 1 e 10. L'ASRock 570 Gaming 4 utilizza un'alimentazione a 10 fasi con un singolo ingresso di alimentazione CPU ATX 12V a 8 pin e include anche il supporto per memoria DDR4 con quattro slot disponibili che arrivano a supportare un massimo di 128GB di memoria. Il pannello posteriore include due USB 3.1 G2 Type-A, sei porte USB 3.1 G1 Type-A nonché una coppia di uscite video composta da DisplayPort 1.2 e un'uscita HDMI. Non è presente una USB Type-C su questo modello, tuttavia abbiamo una porta Intel i211 AT Gigabyte Ethernet e 3 jack audio con codice colore da 3,5 mm alimentati da un scheda audio codec Realtek ALC 1200 HD. Peccato per l'assenza dell'USD C. La finitura del pannello posteriore è una porta combo PS2 e 3 porte antenna sullo schermo IO grazie all'inclusione di uno slot M.2 Key e 2230 per consentire agli utenti di installare la propria interfaccia wireless. Nel complesso l'ASRock X570 Gaming rappresenta un'opzione più modesta con una porta Gigabyte Ethernet, un codec Realtek ALC 1200 HD e due slot PS4.0 a lunghezza intera. Questo modello si rivolge ai giocatori entry-level, insomma chi ha un budget un po' più limitato ma vuole comunque costruirsi un buon PC a prova di futuro. Potete trovare questa scheda madre ASRock X570 Phantom Gaming 4 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Ciao e al prossimo video!